Eccoci qui, come mai ti ho notato tra la folla? Non ho idea, forse perché sono vestito... Può essere, può essere, può essere, anche perché io sto cambiando casa e mi potresti tornare utile, mi hai dato delle idee per l'arredamento? Sì. Come colori, come... Sì, l'atmosfera lacustre. Vai vai, descriviti, descriviti. No, mi sembra adatto all'atmosfera lacustre, per fantasia e colore. Buono, buono, mi piace, come ti chiami? Lorenzo. Da dove vieni? Firenze. Non l'avevo capito, anche questo è particolare. Era difficile. No, bravo, bravo. E cosa stai festeggiando qui da noi? A Dio ce li baso. Tuo? Mio, eh sì. Beh, insomma, magari ti vesti così nella vita, che ne so. Sì, sì, no, no. Ma li fai il modello, lo stilista? No, no, no. Cosa fai, cosa fai di bello? Faccio lavoro in una società di consulenza. Ah, quindi... Vabbè, sei così, ma serio? Sì. Già che è gravata? No, la pigna mente è sempre lo stesso, cambia la fantasia. Cambia la fantasia, cambia colore. Certo, certo. Allora, anche i tuoi amici vedo che sono elegantissimi. Sì, sì. Guarda, guarda che da Firenze vengono solo eleganti, se no non si prende. Il ragazzo in realtà viene da Napoli ora, ma insomma... Però, madonna, hai un mix italiano. Sì, 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 da Palazzo Petti, da Palazzo Petti. Molto bene, allora, un saluto per i nostri amici della Web TV del Convento, lo vuoi fare? Sì. Ciao. Ricordaci anche con chi ti sposi e quando? 20 di giugno, Beatrice. Va bene, noi ti auguriamo buona serata e buon divertimento. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao.